Da bambina un pescatore mi regalò un bracciale di corda, era ciò che restava della funica anni prima lo aveva salvato dalla marea. E mi confidò che il momento più bello era quello della piete prima della tempesta, quando dal mare in lontananza si vede ancora la città, e giochi di luce creano ombre dalle forme sconosciute. Mi disse che era per la voglia di poter rivedere tutto questo che si impegnava a resistere nella furia marina, con la consapevolezza di farcela. E da allora so che vale la pena di affrontare qualsiasi tempesta, pur di vedere anch'io la mia terra, che mi farà sempre sentire che un po' sotto dove tornare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.